Domenica pomeriggio alle 14.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Passo Fiorine in via Monte della Madonna a Teolo per un incendio alla sterpaglia che ha lambito il bosco. I pompieri si sono attivati da Abano, Terme e Padova con un'autopompa, un autobotte, un modulo antincendio boschivo e sette operatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento circoscrivendo le fiamme di circa 400 metri quadrati relativi alla zona del picnic. Sul posto anche squadre dell'antincendio boschivo regionale per una bonifica della zona. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.